E ciao a tutti ragazzi e bentornati di nuovo sul mio canale, ragazzi siamo ritornati su The Last of Us, ci siamo lasciati l'ultima volta qui al cimitero e adesso dovevamo andare a casa di Joel, non so fare cosa, vediamo. Ora usciamo dal cimitero, vediamo cosa c'è da fare. No raga, però così no, ancora sto pensando all'altro giorno. Cosa devi prendere? Ok, qui non c'è niente, non lo so, magari ragazzi non ho una speranza che lo rivediamo qua, però è possibile, forse è sopra. La chitarra? Ah no, mi sembrava una chitarra. Vediamo che ha fatto. Eh, cosa dobbiamo prendere? Non lo so, qua abbiamo fatto una, abbiamo scritto nel diario. La sua giaca. No raga, è proprio perfetto il gioco, raga, ci sta tantissimo. E' questa? No raga, vi ricordate questa foto al primo vista quando giocavamo a The Last of Us 1? Infatti, sì sì, c'era pure nella casa del prologo, se vi ricordate. Invece qui non... Ah, qua ci siamo noi, a quanto pare. L'orologio? Un'orologio? 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 Qui Maria, secondo me, non vuole, perché sennò dovrebbe venire pure con... No, aspetta, perché? Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudile in una stanza. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo. Che cosa? Partito qua Tommy è partito. Poterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato anche me? Serviva una squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo dartela. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi. Te lo puoi scordare, cazzo. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene. Andrai con lei? Sì. E sperate di uscire di nascosto? Mh? Già. A piedi? Sì. Che succede? Ho fatto preparare il tuo cavallo nelle stelle. No, vabbè. Che c'è? Prendete le munizioni. Grazie, Maria. Vi chiedo soltanto un favore. Riportatemi quell'imbecille di mio marito. Ma certo. Va bene. Partite ora. Finché c'è luce. Interessante, interessante. E allora, niente, ragazzi. Dobbiamo mettere in cammino. Cioè, quindi vuole vendetta, praticamente. Cioè, così ho capito. Infatti, si atto il giorno 1. Ragazzi, si inizia. Penso che sia questo il vero gioco, in realtà. Cioè, no, già, vabbè. Però comunque, più o meno, adesso sta per iniziare. Aveva un cacciatore addosso. Voleva affogarlo e... E Joel non arrivava alla pistola. Cavolo. Hai avuto paura? Beh, ho reagito distinto. Sono... Mi sono lanciata sull'arma, l'ho ferrata e... Gli ho sparato in faccia. Quanti anni avevi? 14. Quanti anni avevi quando hai ucciso il primo? Un infetto, dici? No. Un individuo cosciente. E non fungino. 10. Wow. Cos'è successo? Un tipo aggredì mia madre. Io lo pugnalai. Merda. Stavolta mi batti. Già, sono proprio cazzuta. Ci siamo persi. Tra l'altro, da notare... Cioè, l'ambiente. Cioè, guardate... Ma tra l'altro si vede bene. Un po' di fiducia. Ok, dove stiamo andando? Che mi dici di quei pazzi cannibali che hai incontrato con Joel? Ce l'avevano con voi. Forse questi del VLF sono collegati a loro. No. Non mi sembrava lo stesso gruppo. E i trafficanti del mercato nero di Boston? Dina, Joel ha fatto arrabbiare molta gente. Non ha senso tirare e indovinare. Ok. 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 Cioè, guardate qua, raga. Madonna. Eh, no, non lo dire, non lo dire. E infatti è questo l'ingresso, ma... Come si entra? Ok. Mi sa che dobbiamo un po' muoverci noi adesso. Ci sono cose qua? Niente. Cosa c'è qua? Uh, una mappa. Ok, ok. Benvenuti a Seattle. Questa ce la prendiamo. Una mappa turistica. Beh, è già qualcosa? Ok. Ok, qua abbiamo preso tutto. Invece di qua... Dove si entra? Adesso però dobbiamo capire come si entra lì. Qua c'è qualcosa. No, qua c'è addirittura... Oddio, raga, ma che è? No, non possiamo leggerlo tutto. Allora, secondo le mie doti... Ecco, dobbiamo fare così. Lì già entra, vedo una scala. Quindi si farà così, sicuramente. Dina, ehi, fammi salire. E infatti. Dai, 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 dai. Troppo forte, troppo forte. Io resto di guardia. Tu cerca di aprire il cancello dall'altra parte. Va bene. Basta, basta non cadere. Ora immagino... Ecco, così. Madonna, raga, sembra di cadere. Di qua. No, 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 non cadere. Tutto ok? Tutto ok. Stavo solo morendo. No, ma infatti, niente di che. Dove sono quei bastardi? No, 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 no. Ovvio, non funziona. Ok, ok, allora. Cancelo è lì? Ok. Qui serve la corrente. No, e perché? Ma ecco perché. E ti pareva? Non è niente. Non è niente. Qua dentro. Non si apre. Qua dentro. E non si apre nemmeno. Così si potrà fare. Si sono chiusi tutti dentro. Ragazzi, ci sono un casino di cosa a prendere. Qua ci sono... Ah, addirittura. Ok. Ma che sono? Non capisco. Ah, tra l'altro si gira e ce ne sono altre. Ok. Ok. Ok, proviamo a trasportare esatto. Ok, dai, ci stas. Mi piace, mi piace. Si attacca qui. Eh, attenzione, ti prendi la corrente. E rimani appesa. Ovvio. Ora devo provare con questo. Vai, tu sei in gamba. Grazie. Allora, se questo si è aperto con questa base, immagino che... Questo serve per quello più grande. Penso. Ma sicuro. Infatti qua ci sta un pannello di controllo. Ma non funziona, perché non c'è corrente. Ho sbagliato. Ciondolo, orologio. Mappa di Seattle. No, non è mappa. Codici cancello, ecco. Codici cancello, eh, cancello principale, 0, 512. Va bene, ma naga, bellissimo. Il codice. 0, 500. E ora? Ho trovato un biglietto. Ci sono dei codici, sopra. Parla di un rifugio del WLF in una certa base del Serevena. Forza, forza, forza che ne abbiamo di strada da fare. Andiamo cercando. Magari troviamo il nostro primo WLF. Oh, merda, guarda. Hotel Serevena. Serevena. Dove essere questo? Ok. Cerchiamolo di passare... Il cancello pedra merda. Originale? Serevena. Dritto al punto. Avviciniamoci a dare un'occhiata. Oddio, questa cosa è di prima. Ok, avanti. Infatti, cosa è... Sì, ma già è spento, quindi manca la corrente sicura. Anche perché qua ci sta il generatore. Maledizione. Ora che facciamo? Oh, merda. Il foglio. Cosa? Il messaggio parla di benzina nel parcheggio del tribunale e alla... È vuoto. Cupola. D'accordo. È vuoto. Il parcheggio del tribunale e cupola. No, ragazzi, adesso... Hai idea di come trovare in questi posti? Montiamo in sella e vediamo. Tommy sarà passato di qui. Penso di sì. Beh, dove siamo? Direi che... Che siamo qui. Ah, bene. Aspetta che lo segno. Ma c'è una cupola? Che diavolo è successo? Penso che l'esercito abbia bombardato tutto bene. Che motivo è l'edito? Beh, a volte erano costretti a distruggere i quartieri. Forse di qua. Infatti, di qua, di qua. Ragazzi, siamo quasi a... 28 minuti di gioco. Quindi... Sì, vabbè, direi... Continuiamo. Dico, non c'è problema. No. No, 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 no. Dico, ragazzi, tanto a voi non dispiace se faccio i video un po' più lunghi, tanto. Ok, dobbiamo andare al parcheggio noi, non dobbiamo stare qua. Dai, sinceramente, non mi piace qua. Non mi piace. No, 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 no. Come si va al parcheggio? No, 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 no. ragazzi quanto toglie sto clicker quanto toglie questo clicker vai vai quanto è? ti ha avuto il video non 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 no oh dio 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 edina Ok, ok Raga, ma che è? Madonna Temmi una mano, temmi una mano Ragazzi, veramente È bello, però Non è facile Ok Ok, ok, ok Bellissimo Diciamo che ho allargato Il coso delle armi Oddio, questa me la ricordo Ah no, questa è nuova Bomba stordente, questa è nuova Ok, abbiamo anche la formula Merda Aiuto, aile Oh, cavolo! Oh, cavolo! Andai! Oddio Direi che sono finite Ancora? Ehi benzina Avanti Niente Ok Ci sta il Oddio Sì Ma vuoto Qua ci sta benzina Beh Andrà meglio la cupola Va bene ragazzi Io Ok siamo arrivati qui Ci lasciamo qui Che è giusto Mi raccomando ragazzi Un bel like E pollicione in su Cioè vabbè La stessa cosa Pollicione in su Like La stessa cosa Ovviamente Pollicione in su Ed iscrizione al canale Per un prossimo episodio Mi raccomando ragazzi Niente ragazzi Concludo qui